La scorsa settimana mi ha costretto a confrontarmi più direttamente con il tema del dolore e della sofferenza. L'indice del contagio che rimane alto, la morte per covid del papà di un caro amico, di un caro conoscente dopo tanta sofferenza, la fatica nell'attesa dell'esito del tampone che per tante persone non arriva oppure che dopo tanti giorni rimane positivo. L'incontro con una mamma ferma nel letto per una grave malattia. Ecco, questi sono alcuni episodi che mi hanno costretto, come tanti di noi rispetto al tema della sofferenza, mi hanno costretto a confrontarmi. Ciascuno di noi lo sta facendo in questi giorni e le risposte che ci diamo sono le più diverse, non sono le stesse. Ognuno ha il suo modo di rispondere a tutto questo. Bene, sabato un mio confratello salesiano, Don Angelo Filipponi, mi ha fatto un regalo. Ha chiesto l'unzione degli infermi. Purtroppo da qualche tempo non sta bene. E così a un certo punto mi ha detto, guardi, direttore, mi dia l'unzione degli infermi. Piccolo spot catechistico. Ricordiamoci che l'unzione degli infermi è un sacramento di guarigione. La guarigione della salute, del corpo e dell'anima non è l'ultimo sacramento prima della morte. È un sacramento che serve proprio a ridare vigore all'anima e al corpo in un tempo di prova, in un tempo di malattia, in un tempo di sofferenza. Ecco, sabato appunto, in occasione di questo momento, l'ho guardato tutto il tempo della celebrazione. Lo sguardo sereno, lo sguardo pacificato, perché ha affidato totalmente la sua vita all'amore del Signore Gesù, che crocifisso e risorto ci permette di sostenere qualsiasi prova. Ecco allora che la sofferenza e il dolore sono prove della vita, che tutti noi vorremmo fuggire. Certamente non l'andiamo a cercare, anzi, volentieri vorremmo farne a meno. Ma spesso non possiamo farlo, ci capitano, non possiamo farne a meno. A noi sta la scelta di affrontarle nell'unico modo che ci permette di starci dentro e fare leva sulla grazia operante del Padre. E mi piace in modo particolare una preghiera che dice proprio tutto questo, lo dice in modo molto sintetico. Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. E buona giornata a tutti.